Un rocambolesco incidente ha tirato giù dal letto decine di persone nella zona del Ponte Rosso di Voghera attorno all'1.30 della notte fra lunedì e martedì. Per fortuna le persone coinvolte, due giovani di 23 e 24 anni residenti in zona, non hanno riportato gravi ferite e vista l'ora tarda nessun altro è rimasto coinvolto. I danni alle auto ed alcune strutture pubbliche come i parapetti dell'area pedonale nei pressi dell'ex pesa pubblica sono stati invece notevoli. Secondo una prima ricostruzione le due auto sarebbero entrate a velocità sostenuta nella rotatoria scontrandosi a causa di una mancata precedenza. Sembra che la Mercedes che proveniva da Vienegrotto Cambiaso sia stata urtata sulla fiancata dalla Fiat finendo in testa coda e poi contro il parapedoni, una sorte del tutto simile per l'altra vettura. I giovani sono stati soccorsi dal 118 mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile per i rilievi del caso. Le indagini chiariranno eventuali responsabilità nella condotta dei conducenti. Assieme ai sanitari e alle forze dell'ordine sono intervenuti i soccorsi stradali Euro Express e Calvi per la rimozione dei mezzi semidistrutti.